Buonasera a tutti, mi presento per chi viene da fuori, sono Don Nico, il parroco della comunità di Manopello, vi do il benvenuto al nome di tutta la comunità parrocchiale e questa sera assisteremo allo spettacolo su madre Teresa, come ho conosciuto questo spettacolo? Quest'anno durante la tradizio simboli avevano chiesto alcuni brani a questi ragazzi, eravamo andati lì con i ragazzi delle Cresime, ho sentito alcuni di questi brani e con la catechista subito ci siamo retti perché non farlo anche a Manopello, perché non invitarli a venire a presentare tutto il musical? Gli abbiamo chiesto e quindi siamo arrivati oggi al 30 agosto e ci sarà fatto questo regalo di poter assistere proprio in diretta al musical di Maria Teresa. Le ringrazio, non dirò nulla perché poi loro si presenteranno, dico solo che sono tutti i giovani della parrocchia di Sant'Alponso a Francavilla. Le accogliamo già con un bel applauso. Buonasera a tutti, voi non li vedete ma da un lato e dall'altro dell'altare c'è un coro di giovani che canterà questa sera e un gruppo di musicisti con tutti gli strumenti che suonerà dal vivo per voi in questo musical sulla vita di madre Teresa di Calcutta. Oltre che, stanno facendo tutti i gesti scaramantici sempre nel rispetto del Signore che ci guarda e che farà andare tutto benissimo. Oltre che una rappresentazione, questo per loro è stato un vero e proprio percorso di fede. Hanno cercato di capire, hanno studiato, sono stati a Roma dalle sue remissionarie della carità, hanno messo a punto ogni strumento per poter meglio rappresentare quello che ora andrete a vedere. I costumi sono stati realizzati da molte mamme di questi ragazzi, mamme giovani donne della parrocchia. Prove su prove, pomeriggio, sera, notte, insomma c'è tanto tanto lavoro. L'abbiamo rappresentato due volte a Francavilla, una volta per metà a Chiedi e questa sera siamo qui e lo vedrete per intero. Io voglio soltanto ringraziare il nostro parroco, in partenza ma il nostro caro parroco Padre Raffaele. Lo invito qui vicino a me solo per un saluto, un attivino e niente, dopodiché daremo inizio allo spettacolo. Grazie mille, è già stato detto tutto. Io ringrazio soltanto Don Nico che non vedo ma so che c'è per questo carissimo invito. Tutto quello che è stato detto da Paola è vero, è più che altro un bellissimo percorso di fede che hanno fatto i ragazzi e che vogliono condividere nella semplicità con la comunità così gentile, così bella che ci ha fatto questo onore anche di salire qui per lo spettacolo. Grazie mille. Grazie al parroco Padre Raffaele. Avete una chiesa bellissima, complimenti e complimenti anche al parroco per questa bella comunità. Non mi resta nient'altro da fare che dirvi buon proseguimento, buon ascolto. Tenete conto che è tutto completamente dal vivo, i ragazzi sono emozionati ma sono veramente veramente bravi. Buona serata. grazie 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 un minuto grazie 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 fu grazie 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 a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti